Noi chiediamo che da questa esperienza ci sia una riorganizzazione anche perché ci sono delle novità importanti. La forestale sono diventati carabinieri, i vigili del fuoco per la prima volta vanno nei boschi, cosa che non erano abituati a fare, non avevano mai fatto e quindi hanno delle competenze nuove. E gli AIB hanno bisogno di incrementare i loro organici con dei nuovi corsi che permettono a tanti ragazzi di avere l'abilitazione. Noi abbiamo tanti volontari che non potevano andare sul fuoco perché non avevano l'abilitazione. Questo è un peccato, basta fare dei corsi, basta formare e la gente di queste parti che conosce il territorio, che vuole bene il suo territorio, si presta. Poi questa siccità incredibile, poi il vento fortissimo e poi chissà cos'altro ha provocato questo disastro. Lei diceva prima evacuare, noi abbiamo fatto le riunioni con la popolazione, gente abituata a vivere magari a mille metri in quota, però cosa gli dici? Loro ti dicono io ho le medicine nel cassetto, io devo andare via, sono anziano, un po' di magone. È stato veramente duro, questo posso dirlo, siamo all'undicesimo giorno, però... Non è ancora finita. Non è ancora finita.